Mercoledì 10 novembre, Trieste is Rock è orgogliosa di denunciare il ritorno a Trieste di un grande artista, Steve Win. Mercoledì 10 novembre, in esclusiva per il Nord Italia, salirà sul palco del Tormiele di Trieste, il musicista che è uno dei punti di riferimento al circuito indipendente del rock mondiale. Steve Win, l'ex leader dei mitici Dream Syndicate, il gruppo simbolo dell'underground californiano degli anni Ottanta, arriva in Italia all'inizio del suo nuovo tour europeo nel quale presenterà l'ultimo lavoro, Northern Aggression, accompagnato dai Miracle Tree, la consorte Linda Pittman alla batteria, Jason Victor alle chitarre e Derrick Van Loo al basso. Mercoledì 10 novembre a Trieste, Steve Win and the Miracle Tree, un appuntamento a non perdere per tutti gli appassionati del rock d'autore più vero ed esaltante. Per tutte le informazioni sulla pre-vendita www.triestisrock.it Steve Win a Trieste e sarà un medicine show che ricorderete a lungo. Grazie a tutti!